Natura, ambiente e cultura, un mix vincente nella Maratona FAI che quest'anno nella provincia di Barletta Andriatrani ha visto protagonista la città di San Ferdinando di Puglia e la straordinaria bellezza del paesaggio a ridosso della Cava di Caffiero recuperata e divenuta uno dei più interessanti percorsi per il territorio nel pieno parco dell'Ofanto. A San Ferdinando per due motivi, perché non eravamo mai stati qui e bisogna un po' valorizzare tutto quello che abbiamo di bello nel nostro territorio e perché sto provando a dedicare il secondo evento nazionale del FAI a itinerari naturalistici e non sempre solo alla difesa del patrimonio artistico e questa è veramente una novità per la tipologia, vi hanno sicuramente parlato della destinazione originaria della Cava che doveva essere una discarica e invece è diventato un parco naturalistico. San Ferdinando con il sindaco Michele Lamacchia si è impegnato per organizzare in questo sito e mi sembra che risponda perfettamente alle esigenze che il FAI si propone di perseguire, di realizzare con tanti iscritti e tante famiglie oggi che qui si godono un ambiente, uno splendido panorama naturalistico davvero di straordinaria intensità anche emotiva, devo dire che è una bella giornata di serenità e il tempo aiuta a celebrare questa giornata FAI al meglio nel nostro territorio e penso che sia questo il percorso che dobbiamo tutti quanti insieme, tutte le istituzioni devono perseguire. Nel mezzo della Cava l'antico frantoio Ligne o prezioso reperto di archeologia industriale, una struttura realizzata all'inizio del Novecento con pali di faggio, alta circa 15 metri e costituita da una serie di vagli in ferro, pulegge e con un nastro trasportatore per il caricamento dei massi di pietra calcarea nella tramoggia. I blocchi frantumati in passato erano trasformati in breccia utilizzata per la pavimentazione stradale. In passato venivano utilizzati questo frantoio, questi massi venivano portati, venivano proprio frantumati e triturati, si faceva la breccia per realizzare delle strade ed anche dei pezzi di marmo molto pregiati sotto questo aspetto. Con gli anni è stato abbandonato perché era anti-economico così come veniva fatto e noi l'abbiamo ricostruito, non in funzione, l'abbiamo ricostruito, messo in sicurezza ed è possibile visitarlo dal Deden per venire proprio il meccanismo che è presente che sono dagli anni, fine anni 60 che non è più in funzione. Adesso è stato rimesso in funzione ed è molto bello dal punto di vista di archeologia industriale. Molti visitatori della provincia Batva, anche di quella di Foggia, hanno vissuto la giornata fa in cava e seguito il percorso naturalistico all'interno del parco dell'Ofanto. Era l'occasione migliore per presentare appunto questo posto che è stupendo da un punto di vista storico, ambientale, che ti consente di arrivare sul fiume Ofanto e quindi da un punto di vista sociale di collegare la città, i cittadini di San Ferdinando nuovamente al fiume che troppo spesso viene dimenticato e abbandonato.